Buonasera, mi chiamo Valeria Cudini, sono una giornalista di Foodmap e stasera abbiamo qui con noi Steccaia, rossa rappresentante della Chef Line, attrezzatura a Berghiera. Noi vendiamo attrezzatura, non più col vecchio sistema di vendita diretto, ma con il sistema presente, nonché al futuro della Wine. Siamo molto contenti perché è partita da una scommessa di tre anni e mezzo fa, da quello che adesso oggi siamo diventati il primo sito d'Italia. Con migliaia di clienti che stanno continuando a comprare e vedo fedeli. Soddisfazione anche a questa manifestazione che abbiamo trovato anche dei nostri clienti, ci hanno riconosciuto e questo appaga anche il nostro sacrificio. Com'è nata la collaborazione quindi con Chef World? No, molto interessante appunto perché vuol dire che noi siamo conosciuti, voi siete conosciuti, è una cosa che può evolversi per tutti. Penso che sia una cosa molto positiva, una crescita esponenziale per tutti credo. Cosa si aspetta quindi da questa manifestazione e questa sera? Penso che sia una cosa rosia con tutti i vari ristoratori che abbiamo, pluristallati, pluridecolati. Insomma, penso che tanto di cappello non da cuoco ma siamo contentissimi di questa cosa, di questa collaborazione appunto. Molto bene, allora complimenti e buona serata. Grazie, arrivederci.